Anna di Cassano Magnago propone una ricetta saporita e colorata, pennette speciali con zafferano, gamberi e rucola. Per quattro persone occorrono 350 g di penne, 35 g di rucola, 20 g di prezzemolo, 1 spicchio d'aglio, 40 ml di olio extravergine di oliva, 40 ml di vino bianco, 200 g di gamberetti, 5 g di zafferano. Per prima cosa tritate l'aglio e il prezzemolo e metteteli da parte. Quindi tritate la rucola e mettetela da parte. A questo punto fate soffriggere l'aglio e il prezzemolo nell'olio per qualche minuto e sfumate con il vino bianco. Aggiungete i gamberi e mescolate per circa 10 minuti. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua salata. Al termine della cottura mantecate la pasta con il sughetto dei gamberi. Il segreto di famiglia è l'aggiunta dello zafferano che riequilibra i sapori e dona colore al piatto. Infine aggiungete la rucola precedentemente tritata. Servite questo piatto con una bottiglia di vermentino di Sardegna, sella e mosca. Buon appetito! Vuoi svelarci la tua ricetta di famiglia? Invitaci nella tua cucina e scrivici a melaleggo.it